Questo prossimo panel di cui andremo a trattare è un panel dedicato alla guerra cognitiva. Noi siamo stati abituati a conoscere un po' le guerre tradizionali, quelle che comunque leggiamo e abbiamo letto nei nostri anni scolastici, nel nostro percorso professionale, nei libri di storia. Abbiamo visto però come nella società odierna, dove innovazione e tecnologia fanno un po' da padrona, abbiamo visto come nel tempo si sono sviluppate un altro genere di guerre, che sono appunto le guerre cognitive, che rientrano in questo grande albero delle guerre ibride, quindi queste guerre che si combattono soprattutto da remoto, per cui attraverso anche l'uso di internet, ma anche l'uso dei social media, delle guerre che però hanno un impatto alle volte anche lesivo. Conosciamo le guerre tradizionali, quelle che appunto si combattono proprio sul campo di battaglia, dunque questa lotta tra uomini attraverso dei mezzi, attraverso delle armi che come dicevamo appunto alle volte sono davvero letali, ma possiamo notare come anche nell'uso cibernetico di internet e anche proprio attraverso l'uso dei social media, alle volte ci possono essere delle risposte lesive, altamente lesive soprattutto per l'individuo, ma poi andando a concentrarci su quella che è più sviluppata la società, quindi la collettività e dunque a condizionare proprio le azioni e i comportamenti di ognuno di noi. Noi cercheremo di trattare questo argomento in tutte le varie sfaccettature, quindi anche dal punto di vista politico, quindi di come reagisce la politica, di quali sono gli strumenti di cui si ispira e si fornisce proprio per prevenire in qualche modo queste guerre cognitive e parleremo proprio anche della parte più tecnica, per cui io non voglio rubare tempo ai miei relatori perché il tempo è tiranno e ci hanno rosicchiato anche a noi un po' di tempo, quindi cercheremo di stare proprio per terminare anche alle 16.30, per cui vado subito a presentare i relatori, alla mia sinistra Guglielmo Picchi, direttore per le relazioni internazionali del Centro Studi Politici e Strategici Macchiavelli, deputato nelle legislature 15, 16, 17 e 18 già sottosegretario agli affari esteri durante il governo Conte I. Alla mia destra invece il dottor Massimo Amorosi, esperto di rischi CBRN, quindi chimico, biologico, radiologico e nucleare, ma anche esperto di minacce biologiche e bioterrorismo. E' stato ufficiale della riserva, tutt'ora è ufficiale della riserva selezionata dell'esercito italiano. E poi Emanuel Pietro Bon, analista e consulente politico specializzato in rischio geo-economico e sicurezza internazionale, anche esperto proprio di guerre ibride, quindi chi meglio di lui oggi potrà darci maggiori spiegazioni e delucidazioni proprio su un tema che è così delicato. Sul tema ha scritto anche quattro libri ed ha lavorato anche per The European House, Ambrosetti, Commissione Europea, Vicky Stratt e Inside Over. Quindi io lascerei subito la parola al dottor Massimo Amorosi perché ci parlerà e ci illustrerà un po' quelle che sono le cognitive warfare e dimensione cognitiva, appunto quindi i rischi e le prospettive. Prego dottore. Grazie dottore Saromano, grazie al Centro Machiavelli per l'invito e siccome non vorrei contribuire a rosicchiare altro tempo, ho anch'io degli appunti, delle note per cercare di rimanere in un binario temporale. Allora, se possiamo vedere le slide, già dalla seconda slide vorrei cominciare a dare una breve definizione di che cos'è la competizione nella dimensione cognitiva. È una competizione che prende di mira nella sua dimensione intangibile ideologie, valori e società attraverso che cosa? Attraverso un più esteso ricorso ai mezzi di comunicazione moderni, a nuove soluzioni tecnologiche e soprattutto attraverso una crescente attenzione in ambito militare al settore delle neuroscienze e delle sue applicazioni. Il tema è stato oggetto di un documento di recente pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa, che a mio avviso opera una classificazione direi molto puntuale ed esaustiva di quella che è la portata del Cognitive Warfare, soprattutto nell'utilizzo di nuovi strumenti. La classificazione che è stata fatta, possiamo andare alla terza, slide, è che esistono in questa dimensione della competizione nuovi strumenti di influenza che sono quelli che vanno sostanzialmente a manipolare il pensiero umano, i processi cognitivi di interpretazione delle informazioni, soprattutto agendo sulla dimensione digitale e sui social media. Considerate che la disinformazione può avere un significato duplice, significa manipolare contenuti reali, ma significa anche costruire contenuti artificiali, ad esempio attraverso la tecnologia di deepfake. Tornando al conflitto russo-ucraino, come ben ricorderete, a marzo dell'anno scorso noi abbiamo avuto la chance di vedere il presidente ucraino Zelensky, che non era quello reale, che praticamente dichiarava la resa. Le avvicino il micro. Ok, grazie. Faccia titta come se non ci fosse. Allora, rimanendo su questa classificazione, ci sono degli strumenti di interferenza nell'ambito del Cognitive Warfare che agiscono invece sui processi fisiologici e biochimici del cervello, quindi sia a fini di potenziamento, ottimizzazione, che a fini di degradazione delle capacità cognitive, poi se ci sarà spazio per le domande possiamo andare a specificare, strumenti poi alla fine di alterazione che tramite interfacce più o meno invasive permettono un'interazione tra il cervello umano e la macchina, fino ad andare addirittura ad includere soluzioni tecnologiche di confluenza o ibridazione uomo-macchina, ma vanno a ricomprendere anche altre realtà, per esempio strumenti di realtà virtuale o aumentata o sistemi di comunicazione cosiddetti brain-to-brain, cioè cervello-cervello. Andando alla successiva slide, eccoci qua, noi dobbiamo innanzitutto chiederci quali potrebbero essere gli impieghi nel settore militare delle neuroscienze, perché le neuroscienze sono effettivamente le fondamenta di questa dimensione della competizione internazionale. E qui io mi rifaccio principalmente a quella classificazione che è stata proposta da un'istituzione molto accreditata a livello internazionale, che sono le National Academies of Sciences degli Stati Uniti. Le National Academies of Sciences degli Stati Uniti praticamente sostengono che in queste due macro-categorie, una riguarda il recupero delle normali funzioni cognitive e la seconda il potenziamento o la degradazione delle normali funzioni, ci possono essere degli impieghi duplici. Allora nella prima categoria, per dirla brevemente e più semplicemente, quella del recupero di funzioni, noi abbiamo due tipologie. La prima che riguarda solo impieghi civili. Pensate per esempio a individui che perdono le funzionalità neurologiche in seguito a incidenti d'auto o sportivi nello svolgimento delle loro discipline sportive. La seconda tipologia, impieghi militari. Pensate per esempio a traumi neurologici registrati da soldati in seguito ad esplosioni, come nei recenti conflitti in Iraq e Afghanistan. E quindi anche qui le neuroscienze possono contribuire a recuperare quelle funzioni. Nella seconda macro-categoria, che è quella del potenziamento o degradazione delle normali funzioni cognitive, qui il discorso si va a complicare. Perché nella prima tipologia, la 2A, possiamo avere degli impieghi a doppio uso, dual use, civili e militari. Nell'ambito civile pensate per esempio a tutti i lavoratori che operano in contesti ad altissimo stress, operatori del traffico aereo ad esempio, che potrebbero essere in grado di, con questi strumenti, di elaborare un maggior flusso di informazioni in tempi più compressi. Ma in ambito militare o anche dell'intelligence, la stessa dinamica si può applicare ad esempio agli analisti, a coloro che per esempio devono imparare velocemente lingue straniere o a esperti di criptografia. In questo senso per esempio esiste un programma d'ARPA, dell'agenzia del Pentagono che si occupa di ricerca avanzate, che mira proprio a questo, mira a utilizzare strumenti di stimolazione cerebrale o neuromodulazione a fini di accelerated learning, cioè per consentire un apprendimento facilitato, migliorato in tempi più compressi. Facendo, diciamo, ottenendo quali i risultati, ridurre i costi del training e ridurre la durata dei processi di training. La seconda tipologia invece, la 2B, riguarda esclusivamente impieghi militari, cioè che non possono avere nessuna attinenza nell'ambito civile e un esempio che qui vi posso fare è quello dei sistemi a energia diretta, che nel documento dello Stato Maggiore Difesa erano per esempio ricompresi negli strumenti di interferenza cognitiva. I sistemi ad energia diretta, come penso alcuni di voi sappiano, si riferiscono principalmente all'uso dell'energia elettromagnetica e a tecnologie a particelle atomiche e subatomiche. In questo senso la principale considerazione che mi viene da fare è che dai test di laboratorio che sono stati fatti a livello scientifico, il cervello umano è considerato l'organo più vulnerabile alle esposizioni a sorgenti di radiofrequenza ad alta potenza, sia che utilizzano sorgenti ad emissione continua che sorgenti ad emissione pulsata. Ci sono chiaramente delle aree grigie abbastanza controverse, come ad esempio l'utilizzo di device nanotecnologici in grado di impattare sulle funzioni cerebrali, ma quello che è importante comprendere in questa sede è che l'attenzione alle neuroscienze, soprattutto nel settore militare, tocca degli ambiti che sono ben più vasti di quelli riconducibili all'utilizzo di nuove armi chimico-biologiche. Quindi l'ambito di applicazione è decisamente molto vasto, è un esempio proprio dato dai sistemi di energia diretta. Vado a concludere per non rosicchiare ulteriormente tempo, qui vi faccio un riferimento, soprattutto andando a guardare quelli che sono rischi e prospettive future, prendendo ad esempio quello che sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi qui non ci possono essere spazi di ambiguità, è un'organizzazione delle Nazioni Unite, e l'OMS guardando in prospettiva quello che saranno le tecnologie a doppio uso, multimodali in relazione alla salute pubblica nel suo report del 2021, vi leggo letteralmente che cosa sostiene l'OMS, mentre i potenziali abusi dei bioregolatori, per inciso cosa sono i bioregolatori? Sono sostanze chimiche naturali prodotte negli organismi viventi, quindi anche nei nostri organismi, per contribuire al corretto funzionamento delle funzioni fisiologiche vitali, pensiamo alla respirazione, alla pressione sanguigna, alla temperatura corporea, al sistema immunitario. Dice l'OMS, mentre i potenziali abusi dei bioregolatori sono noti da decenni, le scoperte nel campo delle neuroscienze e della neurochimica implicano che i bioregolatori potrebbero essere utilizzati per finalità ostili più mirate, usa proprio il termine targeted, quindi mirate, e incluse possibilità di procurare danni al sistema nervoso centrale, ottenere un potenziamento, un enhancement delle capacità del soldato, per la gestione del disordine pubblico, quindi crowd suppression, nonché per la manipolazione del comportamento. Ora, alla luce di quello che sostiene l'OMS, che mi sembra abbia una rilevanza abbastanza strategica, noi guardando al futuro dovremmo soprattutto preoccuparci, a mio avviso, di quelli che sono i progressi che si registrano in un campo che è in evoluzione fortissima, che è quello della neuroimmunologia. La neuroimmunologia cosa va ad indagare? Va ad indagare le interazioni che esistono tra sistema nervoso e sistema immunitario. Perché è così importante questo settore? Perché inizialmente, in passato, si pensava che il cervello era isolato dal sistema immunitario, oggi si scopre che non è così. Oggi, per esempio, sappiamo che i neuroni, oltre ad avere funzioni di coordinamento, il cervello produce delle cellule che hanno importantissime funzioni nella regolazione del sistema immunitario. E per farvi un esempio molto semplice, esiste un bioregolatore che si chiama Oressina, che oltre ad avere un impatto diciamo nei processi, nei cicli sonno-veglia, può avere effetti significativi anche sul sistema immunitario. E di questi progressi ci dovremo preoccupare soprattutto alla luce della pandemia di Covid-19. Perché adesso nei laboratori si sta soprattutto studiando il Long Covid, che è proprio una sindrome che va a impattare sul sistema nervoso e che sopravvive alla fase iniziale dell'infezione. Quindi ci dovremmo aspettare una mole di conoscenze scientifiche e non sappiamo, non possiamo dare per scontato, che queste conoscenze scientifiche potranno essere utilizzate per finalità sempre benigne o pacifiche. Un'ultima mia considerazione personale, proprio per poi agevolare il dibattito successivo. Io personalmente penso che dovremmo evitare di cadere nell'errore storico, di innamorarci con cadenza periodica di qualche sigla. Lo abbiamo fatto della guerra simmetrica, lo abbiamo fatto della guerra ibrida, lo abbiamo fatto della guerra di quarta generazione. dovremmo evitare di farlo anche per la guerra cognitiva, cercando sempre di tenere a mente quelli che sono i contesti di competizione internazionale tra grandi potenze e quelli che possono essere gli scenari in cui potrebbero essere utilizzate determinate tecnologie a finalità ostili contro i nostri interessi nazionali o contro gli interessi dei nostri alleati. Grazie. Grazie al dottor Amorosi per aver sintetizzato un bel po' di fogli sotto di sé, però ecco lo ringrazio per aver sintetizzato davvero in poco meno di dieci minuti. Poi se riusciamo torneremo perché sarei un po' curiosa anche di farle qualche domanda su quello che è questo rapporto tra cervello e macchina. Insomma è molto interessante, sarebbe anche da sviluppare in maniera molto più approfondita. Lascio però ora la parola a Emanuele Pietrobon che ci parlerà un po' dell'utilizzo dei social media durante la guerra in Ucraina e come in particolar modo anche l'effetto di TikTok si sia già avvertito un po' durante questa guerra Israele-Hamas. Tra l'altro Emanuele è anche autore appunto di un dossier che è stato pubblicato proprio sul sito di Macchiavelli con il quale insomma abbiamo intrattenuto anche un po' un'intervista che vi invito ad andare ad ascoltare, ad andare proprio ad approfondire sia sul sito del Macchiavelli così come anche insomma sui social del Centro Studi. Per cui Emanuele a te la parola. Allora un caro saluto a tutti e grazie al Centro Macchiavelli per l'invito. Allora la verità è che la mente è sempre stata il campo di battaglia, lo è dalla notte dei tempi e lo è per un semplice fatto. La psicologia è lo strumento prediletto di chi ha le prese con un nemico che gli è superiore tecnologicamente e anche in più domini. Ecco, utilizza la psicologia per vincere in un conflitto che regolare, simmetrico, convenzionale contro tale avversario perderebbe. La mente è il campo di battaglia da sempre, dicevo, perché del resto la prima guerra psicologica della storia risale a tempi immemori. Pensiamo, e mi sto riferendo, allo scontro tra il serpente e Dio. Il diavolo persa la battaglia, una battaglia regolare, simmetrica contro il Padre Eterno, parlò dello scontro tra angeli e demoni, ricorse la psicologia per indurre in inganno Adamo ed Eva, persuadendoli a nutrirsi dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, quindi cagionandone la cacciata dall'Eden, questa è guerra psicologica. La mente come campo di battaglia si è storicamente espressa in due tipi di guerra, la guerra psicologica e la guerra informativa. Guerra psicologica, ovvero demoralizzare, terrorizzare un nemico, spesso e volentieri in contesti di guerra. La guerra informativa, controllare i flussi di informazione per spaesare e confondere una massa, magari in occasione di appuntamenti elettorali. Ma questi due tipi di guerra mente centrica nei tempi recenti se ne è aggiunta una nuova, la guerra cognitiva già introdotta dal collega. E la guerra cognitiva si distingue moltissimo dai suoi due predecessori, innanzitutto perché spesso e volentieri è difficile stabilire quando una guerra cognitiva inizia e quando finisce. È difficile individuare colui che sta muovendo una guerra cognitiva. Gli obiettivi di una guerra cognitiva poi possono anche essere in potenza illimitati perché spesso sono indefiniti e quindi sfugge alla vittima quello che è il vero obiettivo di colui che lo sta aggredendo. Questo rende quindi le guerre cognitiva particolarmente pericolose. Gli obiettivi di una guerra cognitiva frequentemente, ma non sempre, sono sunsuneggianti, ovvero vincere un avversario senza combatterlo e quindi spingere una società ad abbattere i propri governanti, come ha fatto la Russia nella Franza Africa, oppure spingere segmenti di una società a combattersi gli uni contro gli altri, come ha fatto la Russia negli Stati Uniti grazie all'agenzia di ricerca sull'internet, oppure ancora indebolire il tessuto sociale di una società fino a cagionarne la liquefazione per mezzo di operazioni cognitive o neurologiche, come è fatto dalla Cina rispettivamente negli Stati Uniti grazie a TikTok e al fentanyl, la nuova guerra dell'oppio. E se parliamo di guerre cognitive però ci sono anche altri due obiettivi, che sono un po' meno rari ma accadono e hanno a che fare con la costruzione e la demolizione del consenso. E questo ci riconduce due casi studio attualissimi, attualissimi perché dell'attualità, e sono Ucraina e Terra Santa. Zelensky è stato recentemente insegnato dalla prestigiosa rivista specializzata politico del titolo di uomo più persuasivo d'Europa. Ha vinto questo titolo secondo politico, e io gli do ragione, perché ha convinto gli europei a combattere una guerra nella quale non volevano essere incoinvolti. E soprattutto ha anche forgiato l'identità nazionale degli ucraini. Come lo ha fatto? Anche e soprattutto grazie ai social media. Infatti dal 24 febbraio 2022 in Ucraina agisce quella che si chiama IT Army, l'esercito della tecnologia e dell'informazione. Impiega all'incirca 250.000 addetti del Ministero della Trasformazione Digitale che hanno un solo obiettivo, vincere la guerra della narrazione contro la Russia. Come vincerla? Ad esempio sfornando meme in quantità industriale, i meme, le nuove vignette propagandistiche. E poi anche creare un senso di medesimazione tra gli ucraini e i popoli occidentali, anche questo è stato fatto. E poi monopolizzare anche i salotti televisivi e gli eventi culturali, politici e diplomatici. Facendo queste cose, Zelensky e il suo esercito dell'informazione, sono riusciti non soltanto a iniettare un incredibile morale alla popolazione ucraina, rendendo quindi la resistenza letteralmente genuina e a prova di aggressione russa, ma sono anche in effetti riusciti a creare un rapporto di medesimazione tra gli ucraini e i popoli occidentali, anche se va detto non tutti, pensiamo all'Ungheria, ma lì poi si intersecano anche motivazioni politiche che non hanno a che fare con questa macchina di influenzamento pedagogico cognitivo. E poi infine l'identità nazionale. Zelensky è riuscito a fare gli ucraini nel momento più difficile della loro storia, la guerra. E questo è stato fondamentale perché senza un'identità nazionale l'Ucraina non avrebbe mai resistito all'impatto, all'urto della macchina bellica russa. E quindi per questi motivi politico ha deciso di insegnare Zelensky di questo titolo. E poi c'è un altro caso, la Terra Santa, trincea della competizione tra grandi potenze, lungo la quale entrambi gli schieramenti stanno facendo utilizzo di meccanismi cognitivi. A mio modesto avviso Israele sta perdendo il fronte della guerra cognitiva, un po' perché la sua macchina propagandistica sin dall'inizio della guerra ha fatto uno strafalcione dopo l'altro. Pensiamo al famosissimo contenuto di soldati israeliani che entrano in un ospedale. Si avvicinano a quello che sembra essere una tabella nella quale ci sono scritti i nomi e anche i turni dei combattenti di Hamas che avrebbero utilizzato questo ospedale come rifugio. E in realtà poi questa tabella, perché era scritta in arabo, si è rivelata essere un calendario. Quindi incidentalmente Israele, attraverso questi strafalcioni, sta aiutando indirettamente Hamas. Ma Hamas sta vincendo questo conflitto, il lato cognitivo perlomeno di questo conflitto, perché ha aiutato, e non è cosa da poco, da due network globali di impronta cognitiva, che sono rispettivamente TikTok e Al Jazeera. Parlando di TikTok, alcune ricerche hanno appurato come, a seconda del luogo, della localizzazione geografica i contenuti filo-israeliani, diffusi, popolarizzati, anche promossi dall'algoritmo della piattaforma, battano, o meglio, i contenuti filo-palestinesi battano quelli filo-israeliani in un numero variabile che va da 3 a 10. Quindi per ogni contenuto filo-israeliano ce ne sono o tre filo-palestinesi o anche fino a 10. E poi c'è Al Jazeera, l'impero mediatico che però soltanto mediatico non è e mai è stato del Qatar. Pensiamo al ruolo chiave svolto da Al Jazeera durante le primavere arabe, nell'istigare le popolazioni, insorgere contro i loro governanti. Al Jazeera, da quando è scoppiata questa guerra, ha giocato un ruolo fondamentale nel veicolare la narrazione filo-palestinese in tutto il mondo. Tanto che gli Stati Uniti recentemente hanno chiesto ai vertici di Al Jazeera di calmarsi un pochino e di rendere la loro narrazione dei fatti un po' meno partigiana, cosa che però Al Jazeera non ha fatto. Al Jazeera tra l'altro è un caso studio particolare che non riguarda soltanto la guerra attualmente in atto, perché Al Jazeera operazioni cognitive le svolge quotidianamente e invisibilmente dentro e fuori il mondo arabo praticamente da sempre. Pensiamo ad Al Jazeera, versione araba, promuove sostanzialmente, anzi esclusivamente contenuti che vogliono instillare nelle popolazioni islamiche valori conservatori e tradizionalisti. Però poi abbiamo Al Jazeera per il pubblico occidentale, la versione in inglese, che alterna la promozione di contenuti multimediali, anche scritti, che sono o di stampo wok, potremmo definirlo di stampo wok, oppure vogliono introdurre il lettore a qualcosa di diverso, diametralmente opposto all'ideologia wok, ovvero l'islam, nella speranza aspettativa che l'interesse suscitato nel lettore possa poi un giorno convincerlo a convertirsi all'islam, o meglio a ritornare all'islam, come dicono i musulmani. E quindi tutto questo per dire che le guerre cognitive, ecco, è bene prestare attenzione a questo fenomeno perché l'era delle guerre cognitive è appena iniziata, certamente non finirà domani, anzi sono qui per restare con noi e saranno una delle più grandi sfide del XXI secolo. Grazie mille. Grazie Emanuele per averci in qualche modo illuminato in maniera, e ci hai anche proprio trasportato insomma a livello e all'interno dei social media. Lascerei la parola adesso al nostro direttore per le relazioni internazionali, Guglielmo Picchi, facendoci un po' una panoramica anche dal punto di vista politico, per cui anche come diciamo la politica ha risposto e forse anche come dovrà rispondere poi in seguito a questa nuova guerra che si sta facendo, che è già con noi ma che insomma presenta delle sfide ancora più grandi nel prossimo futuro. Prego. Grazie, grazie. Sia Amorosi che Pietro Bonn ci hanno dato un quadro quantomeno preoccupante di dove siamo e siamo di fronte a una sfida che sebbene ritorni indietro di millenni perché diciamo le due componenti precedenti alla guerra cognitiva, cioè la guerra psicologica e la guerra informativa, insomma sono stati componenti che da sempre il famoso discorso motivazionale del generale di turno, di Leonida alle Termopili o tanti altri famosi discorsi della storia per motivare forze inferiori a affrontare forze superiori sono un dato che ha sempre accompagnato il tipo di guerra. Qua siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso e la capacità di identificare che questi processi sono in corso è la sfida che è reale che ci attende perché mentre credo siamo assolutamente in grado di elaborare una guerra cognitiva siamo molto meno attrezzati per fare la lotta alla guerra cognitiva. Credo sia questa questa la sfida reale che ci attende. Nel cercare di poco modestamente di dare un contributo a questo panel ho fatto il bravo studioso, sono andato a ricercare fonti, quanta è la letteratura sulla guerra cognitiva, naturalmente avendo accesso a fonti aperte, non è che troviamo una letteratura infinita, anzi molto ridotta, molto aggiornata, nel senso molto recente, anche se si trovano cose più antiche, tutti i recenti sviluppi sono tutti i documenti che vanno dal 2020 in poi. La politica quindi è di fronte a una sfida di intanto comprendere che cosa sia fino in fondo la guerra cognitiva, per cui occasioni come queste sono fondamentali per rendersi conto di quanto inadeguati siamo, e qui parlo della mia ex classe di appartenenza, cioè della politica, per comprendere fino in fondo la sfida, che è molto più grande di quanto, per quanto mi sia documentato in queste settimane, insomma anche dal punto di vista strutturale, di conoscenze, di base, vanno molto al di là di chi pur ritenendosi educato, praticante la materia, sempre a contatto con esperti, insomma si va bene al di là. Amorosi lo ha detto in maniera fino in fondo, quando si arriva a lo stimolare determinate biologie, usiamo questo termine, all'interno del nostro corpo per scatenare determinate reazioni, non siamo più di fronte all'Hashish che pigliava la setta degli assassini nel XIV secolo per andare a commettere atti eroici suicidi a seconda del punto di vista, ma siamo di fronte a qualcosa di molto di più. Quindi la sfida che abbiamo noi è comprendere, studiare e mettere in atto, fuori di discussione come questo per comprendere il più possibile. La sfida che io mi aspetto da studiosi come voi è, qui siamo di fronte a un altro aspetto di quelli che si è affrontato in realtà, non siamo più di fronte a un tipo di guerra, qui siamo di fronte a una guerra totale. La guerra cognitiva rientra nelle pratiche di guerra totale, perché si va a affervare tutti gli aspetti della società, non necessariamente in modo armato, per cui si va ben oltre quelli che erano pratiche comuni, dalla disinformazione all'interpretazione di notizie vere fino al deep fake. Ci sono studi, penso in particolare a quello elaborato da Johns Hopkins per la Nato, che va a analizzare come identificare e fornire uno strumento, chiamolo dashboard, che si può tradurre come una matrice per poter identificare quale è il tipo di guerra cognitiva che stiamo andando ad affrontare, però siamo veramente agli albori di tutto questo. Io personalmente sono molto preoccupato, preoccupato perché siamo al di fuori di ogni, essendo io stato un legislatore, anche come dal punto di vista strettamente legislativo possiamo andare a regolare quello che noi possiamo fare per controbattere questo fenomeno e come regolarlo anche l'utilizzo da parte nostra. E su questo siamo in un campo completamente aperto, non abbiamo strumenti legislativi idonei per affrontare questo tipo di sfida. Manca la consapevolezza per comprendere la sfida che siamo di fronte, quindi il mio aspicio, detto in maniera molto banale, è che i decisori politici devono in tutti i modi, abbiamo il Parlamento italiano, ha la fortuna di avere la possibilità di fare le cosiddette indagini conoscitive, per cui aprire un filone di ricerca su questo per confrontarsi con chi nell'ambito del cognitive warfare, quindi della guerra cognitiva, ha qualcosa da dire e ha da contribuire in modo tale che in un tempo ragionevolmente rapido, perché questo è lo scenario che tutte le discussioni della giornata ci hanno messo davanti, i tempi di reazione che le società, intese le società come nel loro complesso, quindi anche gli apparati di difesa, l'industria della difesa, tutti gli attori hanno dei tempi di reazione che necessariamente devono essere molto più rapidi e efficaci nel poter dare le risposte. L'elemento che è veramente, qui si va oltre le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale, qui siamo all'ingegneria genetica sul progettare per ottenere un determinato obiettivo. Siamo nel campo quasi, se permettete, di certi film o scenari che abbiamo visto nel passato, quando in realtà dall'esposizione sia di Amorosi che di Pietro Bonn siamo di fronte in realtà a una realtà assolutamente presente. Io rimango però, e qui voglio mettere un elemento di positività, ho visto in politica tentativi, se non di guerra cognitiva, molto vicino alla manipolazione della pubblica opinione e in un altro paese europeo che non dirò, ho partecipato a una campagna elettorale molto dettagliata, dove c'erano capannoni interi di persone che sui social media affrontavano temi specifici di determinate comunità locali per instillare, dividere se era necessario o far propendere una tesi piuttosto che un'altra perché spostando poche migliaia di voti in tanti collegi elettorali poteva far sì di cambiare un esito elettorale. Quindi sebbene siamo ancora lontani, siamo in un ambito di applicazione estremamente diverso rispetto a quello che si diceva, però è possibile manipolare l'opinione pubblica e questo poi porta a conseguenze non indifferenti perché avere in seguito a un'operazione chirurgica strategica di spostamento di poche migliaia di voti in pochi e decisivi collegi elettorali può produrre un governo di un tipo piuttosto che un altro e questo ha conseguenze molto importanti poi sul futuro di quella nazione e nel caso di enti multilaterali anche sul spostare la postura dell'alleanza che sia la Nato, l'Unione Europea o qualsiasi altro ente multilaterale che viene coinvolto. La necessità credo che però sia di oggi mettersi nelle condizioni di poter legiferare per trovare strumenti di un minimo controllo su questo tipo di iniziative e qui spero che i miei ex colleghi che ora sono nel Parlamento italiano siano saggi, si avvalgano del contributo di persone come Amorosi e Pietro Bonne e si possa procedere in questa direzione. Un punto d'orgoglio, mentre cercavo nella letteratura disponibile sulla guerra cognitiva, sono stato molto contento che sia uscito anche, tra l'altro era forse perché era l'ultimo in ordine cronologico, ma è uscito come primo facendo la ricerca l'ottimo testo scritto da Pietro Bonne per il centro Machiavelli, guerra cognitiva e la minacciabilità che abbiamo presentato qua poco tempo fa. Grazie. Ringrazio il direttore per le relazioni internazionali per questa sua visione prima un po' negativa, però poi ci ha dato anche qualche speranza positiva, insomma, quindi prendiamola sempre un po' con ottimismo. Ora, noi siamo giunti al termine di questo panel, abbiamo cercato di rientrare un po' in questi nostri 45 minuti a disposizione, anche per non rubare tempo comunque all'altro panel e agli altri relatori. Chiuderei però solo con un giro di tavolo, ma veramente veloce, una domanda e risposta telegrafica, alla quale poi insomma Guglielmo Picchi in realtà ci ha già risposto, però volevo avere anche la risposta del dottor Amorosi e del collega Manuel Pietro Bon. Volevo chiedere come noi individui, quindi come individuo dobbiamo comportarci rispetto a questa guerra cognitiva, perché noi parliamo di informazioni o alle volte magari disinformazia che ci viene dall'esterno e entra all'interno della società, ma come noi individui possiamo in qualche modo controllare questa cosa, accorgerci, quindi sia dal punto di vista cognitivo, ma anche dal punto di vista dei social media. Prego dottor Amorosi. A dare una risposta telegrafica è un'impresa quasi ciclopica. Proviamoci. Proviamo. Innanzitutto per quanto riguarda i social media mi viene subito in mente le strategie di neuromarketing. Come si fanno le strategie di neuromarketing? Si fanno tenendo conto del fatto che esistono dei siti del cervello che vengono attivati in particolare quando noi usiamo le cosiddette connessioni sociali deboli, quelle che per esempio sono presenti su Facebook, le coppie nome-volto. Quando noi utilizziamo queste connessioni dobbiamo ricorrere alle funzioni di memoria associativa. Le funzioni di memoria associativa attivano particolari aree del cervello. Queste aree del cervello, che vabbè tecnicamente sarebbe la corticcia intorinale destra, ma in ogni caso queste aree del cervello non si attivano quando noi abbiamo esperienze di interazione nella vita reale con la nostra moglie, con le nostre famiglie, con i nostri amici. Quindi questa è già una prima risposta per quanto riguarda i social media. Per quanto riguarda le vulnerabilità che noi dovremmo cercare di correggere come democrazia occidentale dobbiamo tener conto soprattutto di un player di cui non abbiamo parlato molto, che è la Cina. Un progetto sul cervello è avviato in Cina, in particolare per indagare le funzioni cognitive superiori. Noi dobbiamo soprattutto riflettere sul fatto che in Cina esiste una procedura che è quella di fusione civile e militare. Le tecnologie civili d'avanguardia che sono ritenute di interesse sono automaticamente fatte transitare nell'ecosistema tecnologico militare. Questo noi dovremmo tenerlo presente come democrazia occidentale, dobbiamo articolare una risposta, anche una prevenzione. Grazie. Emanuele, a te la parola. Allora, l'unica cosa che può fare l'individuo è informarsi, però informarsi bene, perché leggere da un giornale non vuol dire essere informati, anzi spesso e volentieri, anche per quanto riguarda ormai i casi nostrani, leggere dalla stampa mainstream significa disinformarsi e farlo volontariamente. E poi serve una riscoperta della cultura, della conoscenza, dello spirito critico, cose che ormai noi diamo per scontate, anzi stiamo perdendo, ma prima il signor Picchi stava parlando del rapporto della John Hopkins University che è stato affidato a questa università proprio dalla Nato. E questa università parlava di una cosa importantissima. La principale arma delle guerre cognitive è l'ignoranza dei popoli che ne sono vittime, perché una guerra cognitiva difficilmente attecchisce su una società che è unita, coesa, ma soprattutto alfabetizzata, perché la coesione si può rompere, l'alfabetizzazione però no. Una volta che cece, mentre la coesione, prima ho elencato un po' di casi, si può facilmente distruggere con un insieme di ecco meccanismi psicologici. Quindi la rivoluzione deve partire oltre che dalle istituzioni, perché servono poi ovviamente riforme. L'intero sistema scolastico, parlo dell'Italia, va interamente ristrutturato, va riscritto ex novo. Ci deve essere una rivoluzione anche a partire da noi stessi. Dobbiamo iniziare a informarci bene, dobbiamo iniziare a... Se la cultura non ci viene data dalle istituzioni, dobbiamo essere noi a darcela. Perché ovviamente, come stavo dicendo prima, i guerrieri cognitivi, la loro linfa vitale, sono le nostre debolezze, che possono essere cognitive, psicologiche, ma spesso e volentieri anche culturali. Grazie. Grazie. Grazie ai nostri relatori per essere stati qui con noi e grazie a tutti gli ospiti per questo panel. Restate con noi perché adesso c'è il prossimo, ovviamente.